Da quando è finito la barra degli emblemi? Dove ti arriva l'imposta? Sopra? Penso di sì Sì No, siccome io c'ho tutti quelli del mio 6 dell'Everversum Per tirare Eh, questa è abbastanza mi ha messo a pezzi larghi e pezzi estremi Ah no! No! Questa qua è veramente Cerbero Questa Cerbero, punto! Non sto neanche a vincere arma No, 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 ho visto che questa fosse l'altra di Marte Presente quella mezza aperta Sì, sì Cerbero e basta Ti metti dietro un angolo e vai di Cerbero Minchia, le ho visti, sono già Vado subito in A No, sono Lorian Sono Lorian Andiamo C, andiamo C Sono anche Zambi Oddio, è morto di granata, questo? Allora, io ho fatto una strage in A Sì, ma eravamo io te Io ho tirato la granata, ho visto Puff morire Ma anche io ho tirato una granata Per quello che è morto Ho ucciso il 650 Ho tirato una ginocchiata a uno e non è morto Ah, siamo in Umblay Abbiamo fatto Paloplay? Sì Il 650 l'ho ucciso io di Cerbero E' arrivato uscito da me che spavano E' morto Il 650 l'ho ucciso io di Cerbero E' morto Il 650 l'ho ucciso io di Cerbero Il 650 l'ho ucciso io di Cerbero Ucciso io di Cerbero Ma anche due palle E' Ma anche a me mi è arrivato di pompa Puff Morto Quella è one dietro e lasciate non mi molate mai i colpi del pompa cazzo vinculate in continuazione io non posso mancare la colpa e invece mi ha shottato con la fiaba raccontata bastardi sono tutti nella zona centrale dove danno le armi pesanti si? due erano due ah sei cinquanta eh alla fine sono morto ok ha fatto politica cinquanta ale di nuovo clemenza oh yes si ma il pompa è illegale eh? si si un uomo col pompa è morto col pugnale dell'handa io sono morto questo cazzo no fanculo cosa? ho trovato un'arma che potrebbe essere inutile e vabbè c'è c'è stata una diacchia che abbiamo beccato noi noi ci erano beccati i 615 quindi loro erano proprio a una certa il tipo con il fucile a pompa il 650 è un'arma che 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 è